E' lunedì 12 giugno, buongiorno, benvenuti al primo appuntamento con l'informazione di Telemolise. Ieri le elezioni comunali anche in Molise si è votato in 18 comuni, 15 nella provincia di Campobasso, 3 nella provincia di Isernia per il rinnovo del Consiglio Comunale e dunque per l'elezione del sindaco Abusso è stato eletto Michele Palmieri, il sindaco di Campoglieto è Anna Maria Palmiero, a Castel Bottaccio primo cittadino è Nicola Marrone, a Castellino del Biferno è stato eletto Enrico Fratangelo, a Castel Pizzuto Antonino Mancini, a Civitanova del Sannio è eletta Roberta Ciampittiello, a Duronia Michelino D'Amico, a Guardia Alfiera è eletto Vincenzo Tozzi, a Ielsi Salvatore D'Amico, a Limosano è sindaco Angela Amoroso, a Monte Falcone nel Sannio è stato eletto sindaco Riccardo Vincifori, a Montelongo Nicolino Macchiagodena, a Montemitro è stato eletto Sergio San Martino, a Petacciato Roberto Di Pardo, a San Felice del Molise il sindaco è Fausto Bellucci, a Sant'Elena Sannita Giuseppe Terriaca, a Torella del Sannio è stato eletto Antonio Lombardi e a Toro eletto Roberto Quercio. Maggiori dettagli e tutti i dati nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale. Adesso vediamo le prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali. Partiamo da quelli regionali con il giornale del molise.it, in regia c'è Daniele Ricciuto. Il giornale del molise.it titola così Paolo Di Laura Mandrache Sanità, il tar ferma i giochi di prestigio di frattura, l'articolo è a firma di Giovanni Minicozzi. Termoli e arriva il mercato a difesa grande, novità per tutta la zona. A Isernia, Sant'Antonio da Padova tornano i concorsi del cavallo devoto e delle chiese più belle. Poi Campomarino, rivoluzione e viabilità lungo la statale 16, lavori quasi finiti. Ricerca e prevenzione al servizio del molise, il progetto promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II sul territorio. Rocambolesco incidente stradale coinvolte, gazzelle dell'arma dei carabinieri. Incidente sulla Telesina, muore un 57enne di Forli del Sagno. Poi termoli, cani avvelenati a difesa grande parte, la denuncia, indagini in corso. Premiati i comandanti delle stazioni carabinieri di Isernia e Capracotta. Ancora incontro, ospedale Agnone, Marcovecchio, basta promesse, servono subito i fatti. Ci sono poi editoriali, idee e opinioni e ancora le altre notizie dalla regione ma anche dall'Italia sul giornaledelmolise.it. Vediamo adesso come titola primo piano Molise. Titola in evidenza dedicato alle elezioni comunali. Alle urne si è recato il 50,66% dato in calo rispetto alla precedente tornata. Poi si ustiona al campeggio mentre prepara il barbecue. È grave l'incidente al Costa Verde di Montenero di Bisaccia, il 57enne trasferito a Bari. Poi Isernia non si ferma all'Alt e lancia la droga dal finestrino. Puscher, 25enne, è stato arrestato. Campobasso escono fuori strada e si ribaltano con l'auto. La serata di due amici finisce in ospedale. di spalla Castel San Vincenzo, isola ecologica vicino al lago. I 5 stelle dicono no. Venafro rubati due setter a un cacciatore. Sul furto indagano i carabinieri. E poi l'appuntamento con la storia. Giovanni Boccardo, il prete, astronomo, schivo di encomio e servilismo, il virgolettato. Per quanto riguarda invece le notizie di Sport Calcio Serie D, lupi tifosi propongono una giornata dell'orgoglio. L'idea allo stadio venerdì per il tavolo tecnico. Separazione vicina del grosso ragiona già da ex. Agnone resterà sempre nel mio cuore. La polemica De Bellis replica a Dilucente. Parla perché lugorato dalle mie vittorie. Così dunque, primo piano Molise. Adesso vediamo il quotidiano del Molise. Amministrative in Molise, l'affluenza più bassa d'Italia. Alla chiusura delle urne aveva votato soltanto il 50,66% degli aventi diritto. Testa a testa a Petacciato, dove lo scrutinio è terminato a notte inoltrata. Quercio vince a Toro. Mancini a Castel Pizzuto. Record negativo a Castel Bottaccio, dove al seggio è andato solo il 24,33% dell'elettorato. Prima domenica d'estate assalto alle spiagge della costa molisana. Campo di Pietra perdono il controllo dell'auto e finiscono fuori strada. Campobasso cade dalla moto in ospedale Centauro di 25 anni. Per la politica decreto legge per la crescita del sud soddisfatta alla Venitelli. Agnone e Caracciolo, il comune, pronti a scendere in piazza. Per lo sport, FIGICI, Lega Nazionale di Lettanti. Agnone e Venafro premiate a Roma. Poi Del Rosso e Vairano vince il titolo di prima categoria. Prima categoria festeggiano Pozzigli e Casalnuovo, Real Prata e GSM. Salve Basket. L'isernia di Canzano è campione regionale Under-14. Vediamo adesso futuro Molise. Come titola si avrà sabato 23 settembre la cerimonia di insediamento di Monsignor Claudio Palumbo, nuovo vescovo di Trivento. PLC anche nel Molise difendere le poste dalla privatizzazione e dalla precarizzazione. Campobasso, immagini dei misteri in mostra, esposizione dei disegni di Paolo Saverio di Zinno. Campobasso, lunedì 12 giugno, premiazione e inaugurazione, mostra e settimo concorso fotografico dell'Infiorata. A Trivento inaugura la sede del Parco delle Morge Cenozoiche del Molise. Il sud, la scuola, i tagli, il Molise. In questa regione esiste un assessorato all'istruzione? È difficile comprenderlo. Ci sono poi dopo le altre notizie su futuro Molise. I quotidiani nazionali adesso partiamo con la Repubblica Comuni, La Frana di Grillo, Exit Pol, Movimento 5 Stelle fuori dai ballottaggi in tutte le grandi città, Palermo è un plebiscito per Orlando, a Genova sarà sfida, centrodestra PD, Parma l'ex Pizzarotti al 40%, il rivale Pentastellato al 4%. Poi c'è lo schema nelle grandi città come si è votato. Stefano Folli scrive il populismo paga i suoi tanti errori. Elezioni in Francia, Macron trionfa, piccole penne i socialisti, maggioranza assoluta 450 seggi. Vediamo adesso come titola il Corriere della Sera, anche qui si parla delle elezioni comunali, i 5 Stelle sconfitti nelle città, affluenza al 60%, in forte calo a Parma avanti i Pizzarotti, il PD e gli alleati favoriti all'Aquila, a Verona risultato in bilico fino all'ultimo, Movimento 5 Stelle fuori dai ballottaggi nei centri maggiori, il centrodestra in ripresa ora sfida i candidati di centro-sinistra e poi ancora un data a Macron, la maggioranza è schiacciante in Francia e c'è un'analisi invece sulle elezioni in Italia, ma per i partiti non è un test determinante, il Movimento di Grillo e chi ha deciso si tiri indietro col palvertice. I democratici Renzi, sospiro di sollievo, è andata bene. Passiamo adesso a vedere il Fatto Quotidiano come titolo, la sfida PD-destra, 5 Stelle fuori, exit poll, elezioni amministrative, primo round, la rivincita dei vecchi partiti, boom di Orlando e dei senza partito Pizzarotti e Fiorita. Macron comanda da solo, gollisti su Le Pen, Moscia scrive ancora il Fatto Quotidiano. Vediamo adesso il tempo, il vaffa dei, il titolo clamoroso flop del Movimento 5 Stelle fuori dai ballottaggi nelle grandi città, più che affidarsi a tante piccole raggi, gli italiani preferiscono dar fiducia ai vecchi partiti, scrive ancora il tempo. Il bilancio tiene il PD, la destra unita è competitiva, Genova, Beppe stracciato pure a casa sua, Palermo, l'Eterno urlando vince sempre lui, Verona, Lady Tosi non sfonda, sarà derby PD Forza Italia e Parma vola solo il grande ex Pizzarotti a Valanga e nel Lazio il centrodestra corre a Frosinone e Rieti, grillini al ballottaggio in provincia di Roma. Dal tempo passiamo a vedere libero il grillo perdente, elezioni amministrative, anche qui il Movimento 5 Stelle paga le boiate di Raggi Appendino, scrive ancora libero e finisce fuori da tutti i ballottaggi che contano nelle città. Torna il bipolarismo sinistra-destra ma le politiche non sarà così, il centrodestra vola a Genova, Silvio se la gode, siamo noi l'Argine a 5 Stelle. Il segretario del PD temeva la batosta, se la cava e non sta più nella pelle. Così Rampini il mio ex mito mi ha aggredita, il vedovo di Obama che insulta i trumpisti in TV. Vediamo adesso il mattino, anche qui il flop dei 5 Stelle a Palermo conferma Orlando, a Genova e Verona, ballottaggio tra i poli. Poi a Sant'Antimo i brogli del clan, 50 euro in cambio del voto, 3 gli arresti. Il voto in campagna, Pozzuoli, Portici e Pompei, il PD avanti. Vediamo adesso la stampa, il voto delle città punisce i grillini, i comuni bocciano i candidati dei 5 Stelle, li escludono da secondo turno, il centrodestra avanti dove è unito, affluenza in leggera flessione. E poi sorpresa il paese non è più tripolare di Ugo Magri, Renzi il tentativo del contropiede e da Iggy Pop a Varoufakis lo zibaldone delle urne, capolavoro di Macron conquista la Francia. È caldo record ma l'ambiente non interessa i grandi, al nord inizia una settimana di fuoco, a Bologna fallisce il G7 per il forfè degli Stati Uniti. Vediamo adesso il messaggero, sindaci battuta dal resto del Movimento 5 Stelle, anche qui c'è l'approfondimento sulle elezioni con tutti i commenti, sollievo del governo e Renzi sorride ha pagato la responsabilità. In Francia Macron avvalanga verso la maggioranza assoluta. May vacilla l'intesa sempre più isolata, il Regno Unito e maturità guida online sui prof esterni, social scatenati, recensioni sui commissari e Toto Tema. Secolo d'Italia, un test per il futuro, anche qui si parla delle elezioni comunali, poi se boccia cita Almirante ovviamente a sua insaputa, tempi duri per i fannulloni, ecco cosa rischiano e Tasse Italia sale sul podio dietro Brasile e Turchia. La Gazzetta dello Sport, gol Milan-Andre Silva, altro colpo rosso-nero preso il centravanti del Porto. Accordo lampo con l'attaccante pupillo di CR7, Cristiano Ronaldo, oggi visite le mediche, è costato 38 milioni finora già spesi, 99 milioni, 5 anni di contratto per il 21enne attaccante, ormai ex Porto. E poi si parla dell'Italia e delle qualificazioni ai mondiali. Magnifico Lorenzo, ma l'Italia resta seconda, Russia 2018 5-0 al Liechtenstein, insigne, show, golle e tante giocate a Udine, la Spagna vince in Macedonia, bisogna dunque batterla il 2 settembre. E poi diritti TV, Cairo, tranquilli, faremo più soldi e il canale Lega non è un'utopia. Giovani rampanti, l'Inter ha un futuro escudetto, primavera, mondiale under 20 invece, siamo terzi, abbiamo battuto ai rigori l'Uruguay. Nadal 10, l'extraterrestre, dal 2005 a oggi la storia del re del Roland Garros, decimo trionfo a Parigi, tornato forte grazie ai dubbi e alla paura. E poi rosso sì, dovizioso che bis, questa Ducati è da mondiale, rosso no, King Lewis, Ferrari giù dal podio in Canada, trionfa Hamilton, Vettel, un incidente al via, rimonta e rimane primo a più 12 in classifica. Con la Gazzetta dello Sport termina la nostra rassegna stampa, prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise alle 14 in diretta con il TG, grazie per averci seguito, buona giornata. Grazie a tutti.